Ieri, lunedì 4 maggio 2020, purtroppo c'è stata la esplosione parziale di una parassina ubicata alle porte di Roma, in provincia di Roma, precisamente a Marino. La parassina si è andata a esplodere parzialmente per colpa di una fuga di gas che ci sarebbe stata e che ha provocato di fatto la parziale esplosione di questa stessa parassina che, ovviamente, è stata interessata da questo triste, brutto, negativo fenomeno. Una tristezza immensa per chi vive a Roma, quindi per me, ma anche per chi non vive a Roma o, meglio, alle porte di Roma, in provincia, nel sapere e nel apprendere che proprio questa parassina è esplosa in maniera parziale, creando di fatto, de facto, dei problemi anche alle persone ubicate dentro. Grazie a Leandro, il narratore italiano. Un saluto caro e al prossimo video.